salve salve ragazzi allora vi faccio questo breve video perché ho fatto una chiacchierata con un mio amico comunque qualche noticiolo ogni tanto me la me la dà e lui asserisce questo che la juventus sta puntando fortissimo su milenkovich della fiorentina per un esbosto intorno ai 15 milioni siccome con la fiorentina c'era stato anche l'affare su mandragora quindi c'è anche già un discorso economico con la fiorentina su su mandragora e quindi milenkovich in questo momento è un obiettivo che la juventus sta puntando fortemente perché può giocare anche da esterno destro e si potrebbe interscambiare con danilo che allegri vede anche centrale a fianco di bremer quindi milenkovich sarebbe un acquisto che può fare il jolly sia da centrale che da esterno quindi in questo momento milenkovich la juventus c'è molto ci sta puntando molto l'altra novità è che sul discorso paredes la juventus sta tentando uno scambio col psg rabbio paredes la valutazione di parede sarebbe intorno ai 30 35 la juventus voleva pigliare intorno ai 25 da rabbio però con uno scambio di questi farebbe una plusvalenza molto alta la juventus perché una valutazione più alta e sarebbe uno scambio alla pari sembrerebbe quindi le notizie sono queste sul discorso belotti la juventus sta monitorando la situazione però allegri vuole valutare ken in queste amichevoli perché si è presentato bene il ragazzo si è presentato bene venderlo adesso sarebbe risvalutazione anche perché la juventus ha un altro anno di prestito e poi l'anno prossimo avrebbe il riscatto obbligatorio a 38 milioni però se il ragazzo quest'anno va bene o te lo tieni e lo riscatti e diventa un punto di forza della nuova juventus perché è un ragazzo giovanissimo un 2000 oppure se il ragazzo ripeto fa una buona stagione potresti monetizzare a cifre più alte perché gli attaccanti appena fanno una stagione buona superano i 50 60 milioni come ridere detto questo stasera amiche stanotte amichevoli della juventus quindi cominceremo a vedere un po di calcio giocato e niente ragazzi volevo solo aggiornarvi su sta cosa qua di milenkovic e di paredes naturalmente i discorsi su de jong fatti ieri sera nella live del capitano su de jong e milenkovic savic sono discorsi apertissimi la juventus però deve trovare la situazione giusta per poter chiudere queste una delle due operazioni perché o arriva milenkovic savic o arriva de jong per quello che sta tentando di fare la società naturalmente se entra uno dei due uno tra mckenny e zaccaria è destinato a andare fuori perché non è che possiamo tenere cento centrocampisti comunque ragazzi tutto qui mi raccomando iscrizione a tutti i canali della crew in questo momento credo che sia danni che stia che sta facendo la sua la sua live pomeridiana iscrizione a tutti i canali della live della juventus crew e noi presto ragazzi ci vediamo in qualche live fine settimana spesso io alla sera non ci sono poi ultimamente ci sono poco per le solite questioni comunque ci si vede presto ragazzi e sempre forza juve un abbraccio a tutti